Prima di cominciare questo video volevo ringraziare Martin per questo e per tutti i video precedenti che mi ha permesso di fare con il suo account infatti questo ragazzi sarà l'ultimo video in quanto l'account Mpremier non esiste più quindi un grazie ancora a Martin per tutti i video che mi ha fatto fare e godetevi appunto questo ultimo video con il suo account buona visione un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Castle Clash anche in questo video siamo con l'account di Mpremier anche oggi per fare una cosa molto particolare se non avete visto il video precedente sul Ronin ve lo lascio qui sopra adesso apparirà sicuramente ma oggi siamo qui per spacchettare dalle carte un nuovo Ronin e il compito sarà quello di andarli a trovare come talento Furia 5 mi sono detto di trovare a questo Ronin Furia 5 per fare questo ragazzi andremo a utilizzare queste 307 carte ovviamente spero di trovarlo alla prima e finirla lì però le potrò usare tutte 307 più come vedete ci sono 310k gemme e lo scopo sarà quello di andare proprio a trovare Furia 5 quindi spacchettiamo il Ronin ragazzi e speriamo di vederlo già nell'altare degli eroi con Furia 5 eccolo qui andiamo un po' a vedere con quale talento lo abbiamo droppato con spiegare allora siccome dobbiamo portarlo su direi di andargli a usare qualche libro anche perché sono proprio sprecati fare i dungeon che danno 200k per farli salire pochissimo ok è arrivato a 80 sbloccate la stella possiamo andare qui nell'ultimo dungeon e continuarlo a portare su eccolo qui il nostro nuovo Ronin fatto questo a livello 127 iniziamo subito alla ricerca di questo Furia vediamo un po' rigenerazione ragazzi ho chiesto e tutti gli altri talenti praticamente non servono tranne rigenerazione 5 per un eroe blu quindi nel caso troviamo rigenerazione 5 andiamo a vedere a chi serve però solo in quel caso tutto il resto andrà buttato quindi ira del cielo aspettiamo che ci fa caricare niente bastione 1 colpo pesante accelerazione colpo pesante rallentamento 2 spiegare 3 guardiano del fuoco 5 non ci serve buttiamo un talento a 5 primo talento a 5 buttato rigenerazione 2 dispersione 4 niente non ci serve dispersione 5 niente non ci serve continuiamo ragazzi continuiamo corrosione 4 non è il Furia che ci serve dispersione Fodero vai autodistruzione non è accelerazione 5 non ci serve la misura di sicurezza Furia 3 non è 5 bastione 2 niente rianimazione 3 scottatura scottatura 4 che passiamo avanti rigenerazione accelerazione un altro spiegare rigenerazione niente da fare accelerazione spiegare 1 dai furia 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 spiegare 3 dai sostituiamo spiegare 3 corrosione accelerazione niente non ci serve ragazzi spero davvero spero di tutto cuore di non vedere dio della guerra perché non mi sentirai male avrei una crisi allora scottatura rigenerazione 2 distruzione furia 3 furia 3 allora dai spiegare 1 dispersione ancora spiegare furia 1 niente ragazzi serve furia abbassione 3 furia 3 un altro niente non vuole uscire furia 5 dai furia 5 furia 5 oh dio della guerra 1 ragazzi si è sfiorata la tragedia si è sfiorata la tragedia dio della guerra 1 dio della guerra 2 oh priviti ragazzi priviti bastione un bastione 5 devo buttare no spero non succeda ora furia 5 devo togliermi questo peso furia 5 now dai accelerazione mamma ragazzi dai furia 3 sempre 3 sempre 3 non vuole uscire 5 bastione dai dio della guerra 1 attenzione i brividi 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 rigenerazione andiamo via velocissimi siamo già 217 ce ne siamo sparati già quasi 100 dobbiamo trovare ragazzi oh furia 1 ma è solo 1 è solo 1 fino a un anno abbiamo dovuto buttare grossi però di quanti pochi talenti a 5 ragazzi sono usciti con 100 sostituzioni talenti spiegare 1 neanche 5 spiegare rigenerazione 2 spiegare 1 dai sono volati 100 soltanto furia 1 guardiano del fuoco 3 1 scottatura 5 non ci serve a un altro furia 1 peccato colpo pesante dai fammi questo regalo un bel furia 5 un bel furia 5 dai 4 4 no già 4 mi faceva un 5 subito dopo era magico ragazzi magico magico e invece no invece no dai 180 ne rimangono 180 finora per fortuna non c'è ancora successo i dover buttare dio della guerra 4 brividi ragazzi brividi attenzione fodero fodero tenacia dalle carte comunque secondo me escono meno che dalle gemme non vorrei dire niente davvero pochi 5 bastione 4 brividi brividi dover buttare un super talento spiegare 5 andiamo a sostituire spiegare 5 accelerazione guardiano del fuoco tenacia furia 1 non è quello che ci serve un dispersione 5 ragazzi quanto lo vuole il mio teschio quanto lo vuole lo devo buttare via così come se fosse un'accelerazione 1 la sofferenza ragazzi la sofferenza mi fa male la spina dorsale un altro tenacia 5 buttiamo via anche questo però ragazzi non esce né rigenerazione 5 né furia dai dispersione 4 non ci interessa dio 1 dio 1 dai spiegare no no ci sono furia 1 quando vedo rosso spero sempre spero sempre quindi possiamo premere fin quando almeno non ci blocca ecco tipo così ma cerchiamo solo furia ragazzi solo furia la furia nel cercare furia siamo già a 118 carte di furia 5 neanche l'ombra quindi dai dai voglio trovarla un altro 3 un altro fottutissimo 3 spiegare 4 davvero un peccato però finora almeno non l'abbiamo buttato roba potente spero che il primo talento a 5 importante che non è guardiano del fuoco sia proprio furia sia proprio furia dai dai ragazzi siamo a 98 carte deve assolutamente deve assolutamente uscire spargimento 2 scottatura scottatura mannaggia le scottature colpo pesante 5 non è furia non è furia dio della guerra dio della guerra dispersione dai 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 79 no ragazzi non mi posso non posso non voglio arrivare a usare le gemme devono finire con queste carte furia 2 furia 2 dai dai no corrosione 4 corrosione 4 accelerazione dai 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 70 cambia talento un altro colpo pesante 5 ragazzi allora furia serve la furia ragazzi non la tenacia la furia dai furia 2 no furia 2 furia 2 dai che siamo sulla buona strada me lo sento furia 1 si sente odore di furia 5 nell'aria ragazzi attenzione furia 5 nell'aria 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 rigenerazione 4 bastione 5 devo buttare all'aria un bastione 5 che tantissima roba cioè ragazzi provo un estremo disagio a cliccare ok ma debbo farlo dio della guerra 1 meno male non 5 bastione ma non poteva essere un bel furia dai 48 carte bastione spiegare dispersione dai dai ti prego furia 1 furia 1 oh furia 4 che palle dai furia 5 furia 5 se sono usciti a me due bastone 5 di fila perché non può uscire un bel furia 5 dai 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 furia furia devo infuriare allora furia 2 furia 3 furia 4 e furia 5 no dai ti prego ti prego ti prego ti prego ti prego ti prego niente rianimazione servirà a me rianimazione se non serve se non esce questo maledettissimo furia dio della guerra 4 almeno non 5 non è uscito neanche un dio della guerra 5 però un bastione si bastione si bastione si anche bastione tanta roba o un furia 1 solo 7 carte accelerazione 5 corrosione 5 sta bruciando tutti troppo a 5 con con caranti che non sono quello che serve a me attenzione attenzione ragazzi si passa le gemme allora dobbiamo trovare furia 5 vediamo un po spargimento 4 colpo mortale furia 1 bastione rigenerazione oh mio dio dai deve uscire fuori assolutamente 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 furia ti prego ti prego furia 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 non serve questo serve furia oddio della guerra 5 no c'è ragazzi no mi rifiuto mi rifiuto mi rifiuto non lo posso buttare allora ragazzi io questo dio della guerra li sostituisco perché se non dovessi trovare furia con le prossime 100k gemme per questo video è tutto e vediamo in un prossimo video dopo di questo le altre gemme se no anche perché se no dura davvero tantissimo quindi proseguiamo e arriviamo fino a 200k gems nel caso non riusciamo a trovare furia diamo un po allora corrosione 5 4 niente non ci serve andiamo dritti spediti verso la destinazione spiegare 5 niente da fare corrosione 4 non ci interessa oddio tra rigenerazione 5 rigenerazione 5 agli elite che non lo hanno lo diamo mi è simpatico ma c'è la furia 5 allora rianimazione e lo sostituiamo al lupo eccoci qua continuiamo niente da fare pelle 4 dispersione 5 anche questo buttiamo via colpo pesante spiegare 1 niente da fare dai vogliamo vedere il furia 5 il furia 5 che cerchiamo il furia 5 che cerchiamo bastione attenzione pelle 4 tutti da dover aspettare per il blocco di sicurezza che meno male che ci hanno messo perché se no si con un altro dispersione 5 a me non escono mai però neanche rollo mai talenti quindi ci sta tutto che non è scavai tenacia spargimento però adesso vorrei vedere un bel furia non colpo mortale furia furia 5 furia 5 dai 5 8 e invece 3 3 dai ti prego ti prego adesso basta gemme deve uscire furia devo tutte queste gemme o si ma non 1 5 5 no bastione 4 e dai fallo mamma mia incredibile quanti talenti quanti talenti guardiano del fuoco 5 però furia no eh tantissimi guardiani del fuoco furia no però dai dai furia furia non mi fare infuriare ah un altro dispersione 5 ragazzi maledizione maledizione dai ti prego ti prego fu colpo pesante 5 già sono andate 30k a gems sembra che mi sente allora facciamo così non cerchiamo diciamo che non cerchiamo più furia sai che sto cercando sto cercando colpo pesante 5 colpo pesante 5 dai colpo pesante 5 colpo pesante 5 e invece colpo pesante 5 mi sta buttando proprio merda addosso e invece proprio niente niente cardiano del fuoco io cercavo rallentamento 1 cercavo rallentamento 1 no dato distruzione rallentamento 1 spiegare 5 un'altra volta non ci deve spiegare più niente ci deve solo dare furia ormai abbiamo capito abbiamo capito non ho mai rollato così tanti talenti in vita mia cioè è incredibile che non esce un furia è incredibile ragazzi state cercando un talento in particolare guardate bene cioè però devo dire che alcuni escono più di altri purtroppo e c'è uscito anche il dio della guerra c'è uscito ma questo furia fatica a uscire dai oh furia 4 cazzo questa volta ci credevo questa volta ci credevo 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 dai 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 ragazzi ormai premo pressione perché c'è deve uscire guardate qua c'è 243k altre 43k spargimento 5 o 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 è continuo e siccome sono tante gemme e c'è anche questo c'è anche nel magazzino 11 di queste livello 5 quindi prima di utilizzare altre gemme mi accerto di poter di non poter usare anche queste carte eccetera quindi se questo video comunque ce l'ho messa davvero tutta ragazzi un sacco di carte un sacco di gemme purtroppo non è voluto uscire questo furia ci serviva però per adesso per adesso ronin a dio della guerra 5 e questo dio della guerra 5 ragazzi su ronin secondo me non è male avendo anche un altro ronin chissà che non avesse anche in programma di farne uno con dio e per adesso va bene così in ogni caso se questo video di ricerca vi è piaciuto lasciate un bel like e un commento fatemi sapere che cosa ne pensate della probabilità di drop di talenti in questo gioco io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video ciao ciao ciao